Dopo l'annuncio della creazione del partito Coraggio Italia comincia a prendere forma anche la Spezia? Certo, abbiamo iniziato a darci un po' di struttura, insomma come tutti sapete siamo già presenti da tempo sul territorio, abbiamo il gruppo consigliare Come Cambiamo e quindi abbiamo deciso di appunto dare un po' di struttura al partito, al movimento e quindi insieme agli amici che già ci accompagnano da tempo come i consiglieri comunali e gli assessori abbiamo aggregato altri amici più nuovi che hanno deciso di partecipare in modo attivo con noi a questa esperienza e appunto dando il loro contributo, cercheremo quindi di essere presenti ancora di più sul territorio e di diventare interlocutori per tutte le varie categorie professionali piuttosto che per i singoli quartieri e per le singole problematiche perché poi un po' questo è sempre stata la nostra ambizione è stata la prima intuizione del Presidente Totti quella di avvicinare il mondo civico al mondo della politica a chi non si sentiva rappresentato nei contenitori tradizionali e quindi far sì che queste persone potessero partecipare attivamente dando il loro contributo Ecco, gli obiettivi come stava dicendo lei poco fa sono anche quelli soprattutto di prendere voti anche dal centro quando è possibile Ma assolutamente, certo noi ci siamo costituiti come movimento quando abbiamo costituito Cambiamo e ora Cambiamo sta cercando appunto di crescere, di evolvere in un soggetto più grande che esca anche un po' dai confini della nostra regione con il simbolo di Coraggio Italia e l'obiettivo è proprio quello di diciamo diventare il punto di riferimento per il centro, per i moderati per coloro appunto che magari in questo momento non si sentono così tanto rappresentati da quei contenitori che sono più agli estremi perché io credo che il nostro paese da sempre rappresenti più di tutto un elettorato moderato e di centro e quindi a questo elettorato bisogna dare le risposte, bisogna dare appunto le proposte che possano diventare attrattive che possano diventare credibili per ricevere poi il consenso e il voto e per portare avanti le proposte di questi elettori Un ruolo importante nel nuovo partito l'avranno anche i giovani? Beh assolutamente sì, sono davvero molto soddisfatta perché si è creato un bel gruppo di giovani volenterosi che vanno dai 18 ai 28 anni circa e che appunto si stanno già incontrando, ci propongono temi e credo che siano fondamentali per il nostro progetto